A Russia colpisce Odessa poche ore prima del vertice Putin-Lukashenko. La città portuale ucraina di Odessa è stata colpita da un attacco missilistico russo all'alba di domenica, poche ore prima del vertice tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente bielorusso Alexander Lukashenko. Il Cremlino ha dichiarato che i due intenti discuteranno del «partenariato strategico e dell'alleanza» tra i loro paesi. Odessa è stata bombardata più volte dall'inizio dell'invasione e, in questo ultimo attacco, una persona è stata uccisa e 19 sono rimaste ferite, tra cui quattro bambini. Inoltre, la cattedrale ortodossa della trasfigurazione di Odessa è stata danneggiata. Il porto di Odessa, strategico per le esportazioni di cereali ucraini, è stato ripetutamente attaccato dopo che la Russia si è ritirata da un accordo per l'esportazione di grano la settimana scorsa. Il capo dell'ufficio presidenziale ucraino ha chiesto un maggior numero di missili e sistemi di difesa dopo l'ultimo attacco a Odessa. Kiev ha accusato la Russia di aver preso di mira le forniture di grano e le infrastrutture vitali per la ripresa delle esportazioni di cereali ucraini, mentre Mosca ha affermato di aver preso di mira solo siti militari. Inoltre, l'attacco a Odessa arriva dopo un attacco con un drone ucraino che ha fatto esplodere un deposito di munizioni in Crimea, annessa dalla Russia nel 2014, costringendo all'evacuazione della popolazione circostante e alla sospensione temporanea del traffico ferroviario nella penisola. Le tensioni tra Russia e Ucraina sono aumentate dopo la scadenza di un accordo chiave per le esportazioni che consentiva la spedizione sicura di grano dai porti ucraini. La Russia ha dichiarato di aver condotto esercitazioni a fuoco vivo con missili da crociera nel Mar Nero, mentre le forze russe hanno respinto tre attacchi delle forze armate ucraine in direzione di Rabotino nella regione di Zaporizia, dove si trova la più grande centrale nucleare d'Europa. L'impianto nucleare è stato sequestrato dalle forze russe nei primi giorni dell'invasione. In generale, gli attacchi russi contro l'Ucraina stanno causando gravi danni alle infrastrutture e alle persone, con numerose vittime tra i civili. La comunità internazionale ha condannato questi attacchi e ha chiesto il rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina. Molti paesi sono anche impegnati a fornire assistenza umanitaria all'Ucraina per aiutare le persone colpite dalla crisi. La situazione in Ucraina rimane molto instabile e incerta, e la comunità internazionale sta monitorando da vicino gli sviluppi nella regione. Il recente attacco missilistico della Russia ad Odessa ha provocato la morte di due persone, ferito molti altri individui e danneggiato gravemente una cattedrale ortodossa protetta dall'UNESCO, suscitando la promessa di rappresaglie da parte del leader ucraino. L'attacco alla città portuale, che la Russia ha colpito ripetutamente da quando ha abbandonato l'accordo sul grano del Mar Nero, è avvenuto poche ore prima di un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente bielorusso Alexander Lukashenko. Il leader ucraino Volodymyr Zelensky ha promesso di colpire la Russia per il sanguinoso attacco, che ha coinvolto 19 missili e ha ferito anche 22 persone. Kiev ha anche dichiarato che la cattedrale ortodossa della trasfigurazione, protetta dall'UNESCO nel centro storico della città, è stata distrutta, definendo quanto accaduto un «crimine di guerra» che non sarà mai dimenticato e perdonato. Mosca ha affermato di aver colpito tutti i suoi obiettivi previsti nell'attacco di Odessa, affermando che i siti erano utilizzati per preparare «atti terroristici» contro la Russia. Kiev ha accusato la Russia di mirare alle forniture di grano e alle infrastrutture vitali per la ripresa delle esportazioni di cereali ucraini. La situazione in Ucraina è molto tesa a causa dell'invasione russa della Crimea nel 2014 e del conflitto armato che è seguito nell'est dell'Ucraina, dove i separatisti filorussi sostenuti dalla Russia hanno causato migliaia di morti e una crisi umanitaria nella regione. La comunità internazionale ha condannato gli attacchi russi contro l'Ucraina e ha chiesto il rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale del paese. Tuttavia, la situazione rimane molto instabile e incerta, con il rischio di ulteriori escalation del conflitto. Il critico del Cremlino Alexei Navalny è stato nuovamente messo in isolamento per 13 giorni, in attesa del verdetto che potrebbe condannarlo ad altri 20 anni di carcere. Navalny, il principale oppositore del presidente russo Vladimir Putin, attualmente sta scontando una condanna a 9 anni in una colonia penale di massima sicurezza con l'accusa di frode. I pubblici ministeri russi hanno presentato ulteriori accuse di «estremismo» contro di lui, chiedendo una condanna a 20 anni di carcere. Navalny è stato accusato di creare un'organizzazione estremista, finanziare l'estremismo, lanciare appelli all'estremismo e coinvolgere minori in atti pericolosi e nella riabilitazione del nazismo. Navalny e i suoi sostenitori hanno denunciato le accuse come «assurde» e politicamente motivate. Il verdetto del processo è atteso per il 4 agosto. Navalny è stato imprigionato al suo ritorno in Russia nel gennaio 2021, dopo aver subito un avvelenamento quasi mortale con l'agente Nervino Novichok, vietato di grado militare e sviluppato dai sovietici. Gli scienziati occidentali hanno stabilito che Navalny è stato avvelenato con tale sostanza. Navalny ha denunciato il Cremlino come responsabile dell'attacco, ma il governo russo ha negato qualsiasi coinvolgimento. La condanna di Navalny e le accuse contro di lui sono stato oggetto di critiche da parte della comunità internazionale, che ha chiesto il rispetto dei diritti umani e delle libertà civili in Russia. Navalny ha ricevuto il sostegno di molti paesi e organizzazioni internazionali. La situazione in Russia rimane tesa e incerta, con il governo russo che continua ad essere oggetto di critica per la sua politica interna e la sua posizione sulla scena internazionale. L'attacco di un drone a un deposito di munizioni nella Crimea annessa provoca l'evacuazione e la chiusura temporanea della ferrovia. 16 e 8 PM, 22 luglio 2.023 Fonte, Meduza. L'attacco di un drone lanciato dall'Ucraina nella regione di Krasnovardysk e dell'annessa Crimea ha provocato l'esplosione di un deposito di munizioni, ha riferito Sergei Axionov, il capo della Crimea annessa nominato dalla Russia. Secondo le informazioni preliminari, non sono stati segnalati danni o feriti. È stato deciso di evacuare i residenti nel raggio di 5 km dall'incidente in alloggi temporanei. Per minimizzare i rischi, è stato deciso di fermare il traffico ferroviario, ha scritto Axionov. In precedenza, sui canali Telegram russi e ucraini sono apparsi dei video che sembravano mostrare le conseguenze dell'attacco. I canali hanno scritto che i droni hanno attaccato un campo d'aviazione e un deposito di carburante vicino al villaggio di Oktyabrskoye, nei pressi di Sinferopol. I media ucraini hanno anche scritto che è stato colpito un deposito di munizioni. In seguito, la direzione delle comunicazioni strategiche delle forze armate ucraine ha confermato gli attacchi alla Crimea annessa. La direzione ha scritto, le forze di difesa ucraine hanno distrutto un deposito di carburante russo e un magazzino a Oktyabrskoye, temporaneamente occupato. Grazie a tutti.